Musica Signore e signori bentrovati e buona domenica in compagnia del TG6 la settimana. Partiamo dal lunedì con le notizie di maggior rilievo. Taglio del nastro a San Salvo per Amazon, il colosso del settore e-commerce. Si tratta di un investimento per oltre 250 milioni di euro. Le attività sono cominciate ufficialmente nella mattinata. Inaugurato questa mattina nell'area industriale qui a San Salvo, il centro di distribuzione più grande per il centro sud di Amazon, nel colosso, la Internet Company che fu fondata nel 1994 da Jeff Bezos e che è stato lungibilante nell'intercettare quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro degli acquisti online, degli acquisti via internet. Un progetto ambizioso, 60 mila metri quadrati per quattro piani e un investimento di 250 milioni di euro, è costato l'impianto che vedete alle mie spalle. Un impianto che dà lavoro per il momento a 640 dipendenti ma che prevede di assumere nell'arco di tre anni mille dipendenti. Un impegno che è stato preso anche dalla Regione Abruzzo nella persona del Presidente Marco Marsilio che ha parlato di un esempio di concertazione, un esempio di collaborazione, quello che ha portato oggi qui a San Salvo il colosso dell'e-commerce. Sì, abbiamo iniziato circa un mese e mezzo fa e contiamo di raggiungere i mille dipendenti entro i tre anni dall'apertura. Dal punto di vista logistico come è funzionata, insomma, come avviene l'evasione degli ordini? Allora, questo è un centro di distribuzione e il centro di distribuzione è quello che noi chiamiamo il primo miglio, ovvero il punto da cui partono gli ordini e in cui risiede tutto l'inventario di Amazon che si trova sul nostro sito. Quello che succede è che quando un ordine cade, se il materiale si trova in questo sito e in base alla distanza dal cliente finale, l'ordine cade in questo sito, viene prelevato dal magazzino e viene inviato ai centri che noi chiamiamo l'ultimo miglio in cui poi avviene esattamente il prelievo e la consegna finale. Quindi questo è il primo miglio e arriviamo il cliente attraverso poi la consegna all'ultimo miglio. Le differenze invece con la sede che avete già inaugurato due anni fa a San Giovanni Teatino? Esattamente, quindi San Giovanni Teatino è quello che chiamiamo l'ultimo miglio, quindi arrivano da centri come questo e da oggi in poi, principalmente da questo, arrivano le merci che verranno poi smistate sul territorio attraverso l'utilizzo di van, quindi quello è l'ultimo miglio. Noi siamo il primo miglio e San Giovanni Teatino è l'ultimo miglio. Con un pizzico di legittimo orgoglio ho ricordato che la decisione sulla vendita e quindi sull'insediamento di Amazon in questo territorio è arrivata in 15 giorni, 15 giorni dopo aver ricevuto la proposta di acquisto. Noi abbiamo fatto l'alienazione del bene, l'autorizzazione ad Arab a poterlo vendere, il parere in consiglio regionale, il confronto con le amministrazioni coinvolte del territorio. Io credo che sia un record, non so se mondiale, sicuramente italiano perché per insediamenti di questo tipo a volte si passano 15 anni a discutere e poi magari neanche si fanno ed era la fine che fece lo stesso autoporto da cui poi trae origine questo capannone. Un insediamento che ha portato a una ricaduta occupazionale significativa. E ce ne attendiamo oggi già significativa, ce l'attendiamo entro i tre anni come promesso, come da impegni di sviluppo di Amazon. Noi attendiamo intorno alle mille persone occupate direttamente in questo stabilimento più tutto ciò che significa l'indotto. È naturale che siamo felici per aver dato una scossa importante, soprattutto in tempi di crisi economica, creare posti di lavoro credo che sia sempre la ricetta migliore per poi combattere la povertà e creare benessere sociale. Questo benessere deve essere anche una nostra preoccupazione anche nella qualità del lavoro che si fa e quindi ci siamo anche confrontati per un settore che ha vissuto e continua a vivere in alcuni suoi segmenti, quello della logistica, conflitti sindacali importanti, però la logistica è sicuramente il futuro dell'economia e del commercio, anche dell'industria. Un drammatico episodio di cronaca ha sconvolto la città di Pescara. Un uomo ha sparato colpi di pistola all'interno di un bar pizzeria di via Eugenio Ravasco. A perdere la vita Walter Albi, mentre Luca Cavalito è ricoverato in rianimazioni in condizioni grave. Un vero e proprio agguato quello che si è consumato ieri sera a Pescara. È l'orario dell'aperitivo, siamo in via Eugenio Ravasco, a due passi dal centro. Accade tutto in pochi secondi. Un uomo a bordo di uno scuterone, come confermano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, parcheggia, per poi dirigersi a piedi verso la veranda del bar del parco, dove si consume il dramma. Colpi di pistola. Chi ha sentito dice più di uno, che non lasciano scampo a Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al mare, mentre resta ferito in maniera grave Luca Cavallito, 48 anni, di Pescara. Attimi di secondo e il killer, col volto coperto, si dilegua nel nulla, a bordo del suo mezzo, lasciato pochi istanti prima. Sul luogo della sparatoria, oltre al 118, agenti della polizia, carabinieri, il capo della procura di Pescara, Giuseppe Bellelli, assieme al sostituto titolare dell'inchiesta, Andrea Di Giovanni. Scene di terrore anche nel vicino Kidland, locale che ospita una festa con famiglie e tanti bambini. Otto, i bossoli rinvenuti sul posto dalla polizia. Per Albi, fatali, i colpi ricevuti al torace, all'addome ed un terzo tra spalle e collo. Tre colpi che hanno centrato Cavallito, obiettivo del killer, uno al volto, uno al torace e uno tra stomaco e fegato. Trasportato in condizioni critiche all'ospedale, è stato sottoposto a due interventi chirurgici andati avanti fino alle 5. Ora è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Ha riportato lesioni a diversi organi, nonché agli arti e al volto. Non sembra avere precedenti Walter Albi, architetto stimato che in passato aveva lavorato anche per il comune di Pescara come direttore dei lavori nella manutenzione straordinaria delle coperture delle case popolari a Fontanelle. Ex calciatore di categorie minori, Cavallito a quanto pare aveva invece piccoli precedenti. Forrestato dieci anni fa per detenzione ai fini di spaccio insieme a tre cerignolani, nell'auto fermata dai carabinieri 200 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 19 chili per un valore sul mercato di circa 150 mila euro. Sulle tracce dell'assassino si sono messi subito al lavoro le forze dell'ordine che sperano, confidando nell'aiuto delle telecamere posizionate in altre zone della città, di recuperare notizie fondamentali per cominciare a capire il perché di questo gesto. Dopo l'ennesimo episodio di violenza la città torna a interrogarsi sulla questione sicurezza. Il sindaco Carlo Masci chiede più unità di polizia e conferma ancora una volta come Pescara sia una città sicura. Pescara è ancora una città sicura? Ora se lo chiedono in tanti dopo l'episodio di violenza che ha riportato al centro della cronaca nazionale la città adriatica. Un delitto senza pietà, colpi di pistola che non hanno lasciato scampo all'architetto Walter Albi mentre il suo amico Luca Cavallito che era lì con lui adesso lotta tra la vita e la morte. Sul luogo del delitto è intervenuto il sindaco Carlo Masci che chiede il gran voce non solo al questore ma anche agli organi superiori come il Ministero dell'Interno di dotare la città di più agenti di polizia. Nei giorni scorsi proprio in un tavolo tecnico in prefettura il questore Luigi Liguori aveva lamentato a scarsità di personale. Non è possibile che ci siano solo due volanti della polizia che girano di notte a Pescara quando Pescara è una città di grande attrattiva. D'altra parte lo dimostra anche il fatto che purtroppo dei due che sono stati coinvolti in questo episodio uno è il residente a Francavilla e l'altro a Montesilvano però si incontrano a Pescara sono pescaresi, gente che vive il nostro territorio, che viveva il nostro territorio. Non è possibile che accadano questi episodi. La città vuole risposte chiare, forti e determinate. E poi è lo stesso primo cittadino a voler smentire le voci che vorrebbero Pescara una città non più sicura ma dove è evidente che gli episodi di violenza stanno aumentando. Senza scavare troppo nel passato possiamo benissimo ricordare l'uccisione di Marco Cervoni il primo gennaio del 2020 ucciso nel quartiere di Rancitelli e poi la sparatoria che ha coinvolto il 10 aprile scorso il barista Yelfi Gruzman in pieno centro. La città è controllata, abbiamo 40 telecamere, adesso sono all'opera per cercare di individuare se possibile l'assassino però Pescara ha bisogno di più controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora cittadini e residenti di quella zona sono sconvolti. Ai nostri microfoni la testimonianza di un genitore che si trovava insieme ai suoi figli presso il parco Kidland. Il primo pensiero è andato ai bambini che stavano giocando, abbiamo visto gente poi scappare, correre dentro, gridare c'è un pazzo che sta sparando, il primo pensiero è stato correre dai bambini e metterli al sicuro quindi poi ci siamo rifugiati all'interno del locale, il gestore è stato pronto a chiudere ogni accesso per mettere al sicuro le persone dentro e poi abbiamo visto arrivare polizia da tutte le parti, ambulanze e pian piano si è formata la storia dove è venuto fuori che sostanzialmente è quello che si capisce un attentato. Era attesa la super perizia riguardante la tragedia di Rigopiano avvenuta nel gennaio del 2017. I periti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea hanno depositato il fascicolo di 390 pagine che ora sarà studiato dagli avvocati. Per ottobre è calendarizzata la discussione. Quanto abbia contribuito il terremoto sul processo di innesco della valanga che causò il crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017 non può essere quantificato ma allo stesso tempo è impossibile da escludere. Dunque la super perizia realizzata dal pool di esperti del Politecnico di Milano su incarico del GUP Gianluca Sarandrea non scioglie il nodo riguardante il nesso di casualità tra terremoto e valanga, punto nevralgico su cui fanno forza difese in un modo e parti civili nell'altro. In sostanza le 390 pagine raidate dai consulenti Daniele Bocchiola, Giovanni Menduni, Claudio Di Prisco e Marco Di Prisco lasciano la porta aperta a qualunque possibilità. Per quanto attiene alla valanga, scrivono i professori del Politecnico, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato il proprio ruolo. Gli esperti passano poi al capitolo crollo definendolo prevedibile in astratto. Poiché se la carta di localizzazione dei pericoli da valanga fosse stata disponibile prima del disastro e se a seguito della sua emissione fosse stato redatto il piano zone esposte a valanghe si sarebbe individuata un'area di espandimento comprendente quella dell'hotel Rigopiano. La perizia passa al setaccio anche le scelte dei vari enti in quelle ore di caos totale e parla di carenze organizzative. Se la turbina Unimog o la turbina dell'ANAS fossero state messe a disposizione per la pulizia della strada provinciale 8, questa sarebbe stata percorribile e la valanga avrebbe solo distrutto un edificio. Con riferimento poi alla tempestività dei soccorsi, la perizia implicitamente dice che era possibile far intervenire gli elicotteri Cesare e che ciò avrebbe potuto salvare altre vite. Ora la palla passa agli avvocati che approfondiranno i temi per poi passare alla discussione prevista per i giorni 26, 27 e 28 ottobre. Problema sicurezza a Pescara anche alla luce dell'ultimo drammatico episodio accaduto nei pressi della strada parco. I cittadini scendono in strada assieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, chiedendo più uomini delle forze dell'ordine e posti di blocco in strada. Pettinari, si torna a parlare del problema sicurezza a Pescara, mai come oggi insomma un problema che torna drammaticamente alla ribalta? Beh, intanto io che da anni parlo di criminalità e di emergenza sicurezza, oggi non mi stupisco ma non voglio neanche partire dagli ultimi casi eclatanti perché l'ultimo caso è un omicidio, se ne occuperà la magistratura va bene. Il problema è che a Pescara c'è un'emergenza sicurezza, ormai da anni, non dichiarata e non decretata. Qui abbiamo delle sacche di illegalità diffusa e dei quartieri caldi a partire dalle periferie, ma non solo Ferro di Cavallo, Fontanelle, Rancitelli, Borgo Marino, Sandonato e quant'altro. Nelle zone centrali, in alcune ore della giornata, proprio qui nei portici di Piazza Salotto, nella vicina Piazza Santa Caterina, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele, nella famigerata area di risulta, voglio dire perché di notte diventa una famigerata area di risulta, i cittadini hanno paura perché almeno si registra un'aggressione al giorno, bastonate, aggressioni, sulla riviera, quindi è una microcriminalità, c'è un popolo dimenticato e lasciato completamente in abbiandono che viene taglieggiato quotidianamente e continuamente. Io che cosa sto chiedendo da tempo? Che si vada a decretare l'emergenza sicurezza. Oggi qualcuno dice c'è emergenza sicurezza, dobbiamo scrivere anche al Ministero. L'emergenza sicurezza andava decretata almeno 1500 giorni fa, decretare l'emergenza sicurezza, lo deve fare il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno del quale siede anche il sindaco di Pescara. Unità fisse di polizia laddove ci sono le zone calde, nella centrale di spaccio più grande della regione Abruzzo che attrae criminalità tipo Ferro di Cavallo, Rancitelli, non so, là ci vuole un'unità fisse. In altre zone ci vuole l'operazione strade sicure per dislocare più pattuglie e un'ausilio con i militari e poi un'altra cosa mi si consenta posti di blocco. Io voglio vedere la mia città cinturata, è una città non sicura, lo vado dicendo da troppi anni e oggi cominciano a dirlo anche gli altri, è troppo tardi, mi fa piacere che qualcuno sia svegliato da un lungo sonno, ma è troppo tardi. Quindi si faccia subito, si faccia presto, perché soprattutto qui in centro, nella parte centrale della città, tante persone hanno paura. I sindacati CGL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro ai vertici della ASL di Pescara per discutere della criticità riguarda il pronto soccorso dell'ospedale civile. Di Giovanni, fra poche ore ci sarà un incontro tra i sindacati e i vertici ASL di Pescara per parlare delle problematiche soprattutto inerenti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Questo incontro ci sarà domani, avete voluto fortemente incontrare i vertici della ASL per manifestare insomma quelle che sono le problematiche che attanagliano proprio il pronto soccorso. Sì, hai detto bene, le problematiche che attanagliano il pronto soccorso sono impellenti e devono senza ombra di dubbio trovare una soluzione con naturalmente l'apparato strategico, i medici responsabili del pronto soccorso, dell'emergenza e quant'altro. Insomma tutti quelli che sono deputati a risolvere queste questioni perché ci sono liste di attesa incredibili, ci si recca il pronto soccorso e si è lì a 9, 10, 12 ore, molti vengono lasciati presso il pronto soccorso per 3 o 4 giorni e quindi è evidente che c'è un problema, c'è una criticità che bisogna assolutamente risolvere. Avete però ottenuto già delle risposte importanti dall'ASL di Pescara per quanto riguarda invece altre problematiche? Sì, debbo dire che unitariamente con le altre organizzazioni sindacali e anche per l'apertura dell'ASL e debbo dire con la regione Abruzzo abbiamo trovato alcune soluzioni importanti che erano quelle appunto della proroga sino a dicembre 2022, dei quei contratti a termine che erano in scadenza a giugno 2022 e in più si è sbloccato finalmente quanto all'indennità di produttività per le lavoratrici e i lavoratori della sanità di Pescara. In generale, Giovanni, allargando un po' di discorso, resta la questione della carenza di personale? È evidente che noi stiamo parlando di contratti a termine che scadevano in giugno e sono stati prorogati grazie alla nostra azione, l'azione sinergica che è stata fatta con le istituzioni fino a dicembre 2022. È evidente che stiamo parlando di oltre 300 dipendenti, quindi siamo quasi vicini a 400 ed è evidente che questi 400 hanno bisogno di essere stabilizzati per risolvere quelle criticità a cui si faceva riferimento. Primo caso donna di vaiolo delle scimmie a Chieti. Si tratta del secondo caso di contagio in Abruzzo. Per la 31enne ricoverata preso l'ospedale Santissima Annunziata, la prognosi è ancora da sciogliersi, ma le condizioni non destano preoccupazione. Primo caso a Chieti di Monkeypox PMX, più conosciuto come il vaiolo delle scimmie. È ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata una 31enne arrivata in ospedale con i sintomi tipici dell'infezione. Attualmente nel reparto di malattie infettive la giovane ha un quadro clinico che non desta preoccupazione. Una volta ricoverata, voi avete applicato un protocollo specifico? Sì, soprattutto l'isolamento da contatto, l'isolamento respiratorio e poi i protocolli prescritti in queste circostanze. Il decorso quale sarà? Di solito è una malattia benigna che si autolimita. Nel giro di 2-4 settimane dovrebbe regredire, quindi io mi auguro che sia questo il percorso. La prognosi non è stata sciolta, ma la malattia dovrebbe risolversi nell'arco di 2-4 settimane. Ora si cerca di capire dove la donna ha posto aver contratto il virus e se sia accaduto all'interno dei confini regionali. Quello di Chieti è il secondo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo e il quinto caso contratto da una donna in Italia su 500 casi di infezione riscontrati nella penisola. L'infezione isolata nel corso di quest'anno è una zoonosi virale che può colpire l'uomo attraverso il contatto con animali infetti. È caratterizzata da sintomi più lievi di quelli del vaiolo sconfitto nel 1979. Febbre, mal di testa, brividi, astenia, ingrandimento di linfonodi e dolori muscolari ai quali fa seguito l'eruzione cutanea di lesioni che si presentano all'inizio come vescicole pruriginose ma che si trasformano poi in croste. Il contagio avviene attraverso il contatto. Le vescicole contengono il virus e quindi sono fonte del contagio. Non è chiaro se c'è una pericolosità della trasmissione per via aerea, ma sembra di no. Quindi quando viene diagnosticato un caso i contatti più stretti, i familiari o i partner devono essere sottoposti a un monitoraggio. Via precauzionale basterebbe sempre la misura del gel disinfettante o bisognerebbe attuare altre precauzioni? No, sicuramente la sanificazione delle mani, il distanziamento rimane utile per qualsiasi patologia di tipo infettivo. In questo caso è chiaro che la comparsa di lesioni dovrebbero fare insospettire e quindi magari fare una diagnosi. Il sindaco di Chieti e l'assessore al bilancio Tiziana della Penna rassicurano sulla tempestività con la quale si sta procedendo per l'approvazione del rendiconto in consiglio. Passaggio indispensabile per procedere entro agosto all'approvazione del bilancio consuntivo. L'amministrazione comunale di Chieti avrà 20 giorni per presentare il bilancio consuntivo in consiglio comunale. Decorso tale termine, il prefetto sarebbe costretto a nominare un commissario sciogliendo di fatto il consiglio. Dopo la nuova diffida comunque dovuta da parte del prefetto di Chieti al consiglio comunale, entro agosto si dovrà approvare il rendiconto, atto indispensabile per il passaggio del bilancio consuntivo in consiglio comunale. Saremo rigorosi sul rendiconto procedendo all'approvazione in tempi rapidi e rispondenti alle scadenze previste dalla procedura commissariale, rassicurano il sindaco Ferrara e l'assessore al bilancio Tiziana della Penna. Per questo non viviamo negativamente l'ammissiva della prefettura perché siamo certi che da parte del prefetto ci sia la massima disponibilità a sostenerci nel cammino di risanamento del lente che abbiamo intrapreso. Se è stato possibile arrivare a questo punto in tempi brevi, spiegano gli amministratori, è perché il lavoro di chiusura dei conti era in gran parte definito e di qualità, come ha certificato il commissario Filippo Rosa incaricato dal prefetto. Il sindaco e l'assessore della Penna continuano affermando che non si tratta di una convinzione autoreferenziale poiché i segnali sono incoraggianti circa il fatto che il percorso scelto sia quello giusto. Lo dimostra il risultato di essere riusciti a riportare la Cassa Comunale a un saldo positivo che al 31 dicembre 2021 era di circa un milione di euro, cosa che non si verificava da tantissimi anni. Siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e che hanno inciso sui tempi del rendiconto. In questi giorni, concludono l'assessore della Penna e il sindaco, stiamo provvedendo alle notifiche necessarie all'approvazione del rendiconto in Consiglio e si aspetta a breve il parere del revisore dei conti per poter procedere all'approvazione. Consapevoli di tutto questo, non possiamo ricevere giudizi e lezioni, concludono assessore e sindaco, da una minoranza che ha governato prima di noi e che non è stata capace di votare il proprio rendiconto. Noi con l'Italia. Il movimento politico guidato da Maurizio Lupi a Francavilla ha illustrato le principali proposte contenute nel programma politico e presentati alcuni candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Il coordinatore in Abruzzo sarà Paolo Tancredi. Noi con l'Italia sarà presente nelle liste della coalizione del centro-estere, sarà presente con una proposta molto chiara e molto netta, riportare nel centro-destra la serietà, la competenza, la credibilità, la concretezza, l'idea che dobbiamo presentarci agli elettori come coalizione di governo che governerà l'Italia del 2027 e credo che alla coalizione di centro-destra serva questo tipo di proposta politica. Siamo in campo, lo siamo perché vogliamo bene a questo paese, dal nord come al sud e questa è la sfida che portiamo. La vostra è una proposta di un centro-destra moderato, siete la parte più moderata del centro-destra. Essere moderati vuol dire avere non solo le idee chiare, ma sapere che la politica è mettersi al servizio della propria comunità, mettersi al servizio dei cittadini. Essere moderati vuol dire capire che il protagonista di una società e dell'Italia sono i cittadini e che lo Stato si mette al servizio dei cittadini. E quindi vuol dire capire, per esempio, e dare risposte molto concrete che ha dei giovani che hanno il diritto di costruire il futuro, ma non li si possono aiutare con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza, ma capire che l'equità sociale avviene attraverso il benessere e il benessere lo danno le imprese, per cui se un'impresa vuole dare 200 euro di aumento in un momento come questo a un suo dipendente, ne deve pagare 540. Quindi le risorse mettiamole per azzerare le tasse del cuneo fiscale e dare tutte queste risorse agli operai. Adesso ci spostiamo a Teramo e parliamo di sport. Nulla da fare. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo che saluta la Serie C. E adesso il sindaco dovrà mettere in piedi un bando per provare l'iscrizione in D in sovranumero. Fine della corsa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo e il diavolo, dunque, non giocherà il prossimo campionato di Lega Pro. La sentenza è avversa in toto, ossia non è stata accolta nemmeno la richiesta subordinata a quella che voleva il diavolo iscritto al torneo di Serie D. Svincolo dei giocatori, pressoché immediato, è un futuro. A questo punto tutto da disegnare e non sarà affatto semplice. Perché che la decisione fosse nell'area lo si era capito già ieri in tarda serata, ma nessuno voleva, probabilmente, rassegnarsi a quello che è sempre sembrato. Un destino segnato. Troppe le criticità. È impossibile pensare di ribaltarle solo dinanzi alla giustizia amministrativa, dopo i pareri molto duri degli organi di giustizia sportiva. I profili di censura attinenti, si legge nel dispositivo al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente, non appaiono fondati. Nel caso di specie, gli elementi fattuali addotti non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore, rilevanti ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranea la medesima, e dall'altro non comportavano l'impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del manuale delle licenze. Inoltre non può essere accolta la pretesa di ammissione della ricorrente al campionato di Serie D previa declaratoria di illegittimità dell'articolo 52,10 dell'Enoif per carenza di attualità dell'interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura. Insomma, una sconfitta su tutti i fronti, col primo cittadino Gianguido D'Alberto che dopo aver appreso con rammarico la decisione del Tar si è immediatamente attivato per governare per quanto di sua competenza l'intero processo e garantire continuità al calcio teramano. Inoltre il sindaco annuncia come la giornata di oggi sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali della società e intensificare l'interlocuzione con la Feder Calcio per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina per garantire l'iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio in Serie D. Una sconfitta bruciante però per la città che perde il professionismo dopo un decennio. Lo fa nella maniera peggiore possibile lottando senza avere troppe speranze. D'altronde la sospensiva di qualche giorno fa aveva illuso in pochi quelli che credevano ad un approccio differente da parte della giustizia amministrativa dimenticando che la ragione di quell'accoglimento era determinato soltanto dalla volontà di non pregiudicare una situazione pendente. Ora che la decisione invece è presa, ripartire in qualche modo, oltre che una necessità, diventa un obbligo morale, prima che calcistico, da quale serie? A questo punto la parola passa al sindaco d'Alberto e alla Feder Calcio. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento. Grazie.